Un dato per tutti, il reddito pro capita delle famiglie è tornato addirittura ai livelli di 27 anni fa. Se questa è dunque la situazione, è evidente che con una pressione fiscale di oltre il 56% per i contribuenti in regola. Una burocrazia che richiede ad ogni impresa 120 adempimenti fiscali ed amministrativi ogni anno, ogni tre giorni, e un sistema del credito che nell'ultimo anno ha ridotto di 32 miliardi l'erogazione di finanziamenti alle aziende, il nostro sistema di imprese continua a rimanere sull'orlo del barato.